Oggi vogliamo ricordare quello che è avvenuto qui in questo palazzo, Palazzo Reale, il 30 di novembre del 1786. Proprio qui Pietro Leopoldo, il Gran Duca, ha firmato l'editto con cui aboliva la pena di morte e la tortura. La Toscana è la prima nazione al mondo a eliminare dai propri codici la pena di morte. Pietro Leopoldo riteneva che questo non era un modo di esercitare la giustizia, che la pena di morte non era necessaria, anzi poteva essere controproducente oltre a essere un qualcosa di disumano. Da lì è cominciato un percorso, dalla Toscana e da Pisa è partito questo lungo percorso che ancora accompagna la storia dell'umanità. Sono ancora troppi gli stati in cui purtroppo la pena di morte viene applicata. Questo ci lo ricorda Amnesty International con rapporto annuale e quindi crediamo che ancora oggi valga la pena ricordare questa esperienza proprio perché è una lotta che le nazioni civili devono fare per fare in modo che non esistano più stati in cui si muore per un preteso senso di giustizia. Ma nello stesso tempo da qui è partito anche un percorso per restituire dignità a ogni uomo. Su questo c'è ancora tanto bisogno di lavorare anche nelle nostre nazioni, anche nella nostra terra, perché anche qui per tanti motivi, vuoi perché si viene da paesi lontani, vuoi perché ci sono dei limiti fisici. Tante volte la dignità di ogni uomo è qualcosa che è una conquista ancora da raggiungere. Il messaggio che noi vogliamo dare con la festa della Toscana che tutti gli anni a novembre ricordiamo ma anche volendo apporre questa questa targa che lo ricordi anche in modo tangibile scritto sulla pietra è proprio questo. Non soltanto ricordare un avvenimento storico ma che questo sia anche un monto, un avvertimento per insegnare a noi quanto ancora c'è da lavorare perché veramente la dignità sia restituita a tutti gli uomini. Grazie a tutti.